...fondamente Pino Daniele e vuole portare il suo contributo a questa storia. Io non so dove lui doveva entrare, dice entro per conto mio. Questo è un tipico scherzo che lui fa. Tu qua, tu qua, tu qua, tu qua, io qua. Grazie, grazie. Non dà questo fastidio, adesso uno che ha fatto spot di pubblicità, è stato su tutti i giornali, lo sanno, su Troisi, insomma. Che più parlo, più uno dice, ma chi è che sarà? Poi muovere nei trafici, vabbè, è Troisi, lo sapevo, è da venire. Fa una cosa più rilassante. E' difficile con te fare una cosa rilassata. Gianni, io, sai, sono il capo che prima di tutto Pino Daniele, lui c'ha su calastro un po' che brusco e scorbutico, no? Infatti è uno che se, però io in questa occasione ho avuto l'opportunità di vedere quanto mi vuole bene. Sì. Perché mi ha invitato, no? Insomma, lui è uno così, a vederlo, lui non mi fa mai un pensierino, mai un fionzo, ricordo un anniversario. Però, stavolta qua, che ha detto Gianni, in vita, in finita massima, la felicità mia è essere voluto bene dalla Pino Daniele. In più, c'è il fatto che qua c'è Gianni Minà, signori, un uomo che io, è inutile che lo dico, guarda, tutti quanti già sanno che voglio dire, che io invidio per la sua, per la, per la, per la sua agendina telefonica. Come? Gianni, non la viene a casa. Lui c'ha, no, lui, l'agendina telefonica che c'ha Gianni Minà, fa, è una cosa da invidiarlo, lui è uno che si mette là, ma non lo so, siate. Ma, a realtà, si chiama a Cassius Clay, così. E non è che ci battono il telefono in faccia, no? Che dire, no, c'è Cassius, e Cassius non è che dice Minaglie. No, va il telefono, ah, hi Gianni, how are you? E lui risponde in teleselezione, per ora, a carico di Cassius Clay, chiaramente. E' la festa di Pino Daniele, però voglio dire che la gente, come tu sei arrivato a me, no? Sì. Come nella F, lui c'ha Fidel. Ah, ok. C'è, come uno senza Castro, no? Solo prefissi, ruba, zero, zero. Ma no, no. Dobbiamo. Chiamano, lui chiamano. Io voglio la testimonianza su Pino Daniele, dai. Lui chiamano in tutto il mondo, non se ne frega niente, Fidel, zero, zero, cinque, cinque, quattro. Per Cuba e chiami Moncada. Lui c'ha il numero diretto di casa dei Moncada. Brutta serata questa. Un gruppo che lui, quando chiamano Minaglie, Moncada litigano tra di loro, ci parli, no, rispondo io, lascia che a me. Lui stava facendo sciogliere Moncada, questo fatto che chiamo a casa. Lascia e sa, non chiamano giù a casa. Litigano, litigano, i Moncada ci tengono attenti, hai capito? Basta, lascia. E poi, allora, come è successo poi a Pino Daniele, che mi vuole bene, l'ho capito questa sera, e gli voglio ancora più bene io. Hai, Gianni, chiama Troisi per questa cosa. Lui ha pigliato la gente, sta, sta, fratelli italiani, dì, Antony, Tochini o Troisi? E mi ha trovato? Ma io sono contento, Gianni. Serata difficilissima questa. No, Serata è facilissima perché siamo qua tutti amici con gli americani, li conosco tutti, io, Iso, uno. Pino, Daniele, Pino, vieni a casa, dai. Grazie.